Buongiorno signori, oggi un video un po' particolare perché voi sapete bene sul canale Partenopei Siamo Noi si parla soprattutto di calcio ma oggi un video un po' particolare perché era un po' di tempo che ci pensavo e sta cosa non ce la faccio più la devo dire e la voglio dire attraverso un video, magari poi sicuramente qualcuno mi criticherà, mi contesterà e qualcuno forse sarà anche d'accordo con me ultimamente, stando su TikTok, che è uno di quei posti dove io mi faccio tante quelle risate perché ci sono tantissimi personaggi particolari e tantissimi napoletani che hanno, e li ammiro tantissimo perché con questo modo di fare cogliardico sono stati capaci pure di fare una cosa di soldi e quindi per me va benissimo, anzi là si vede ancora la genialità napoletana, che riescono da niente ad arrangiarsi, a creare eccetera eccetera però ultimamente mi sono imbattuto su alcuni personaggi dove parlano in prima persona però rappresentando tutti i napoletani e questo non mi sta bene, poi per l'altro giorno stando su TikTok ho visto una ragazza, una bella ragazza per carità che mangiava in un modo, non so come l'ha già definito, animalisco no, con le mani, con la bocca aperta a Napoli a cui si fa, a Napoli a cui si fa, non è così, parlare ad alta voce in un modo, a Napoli a cui si fa non è così perché io poi se dovessi raccontare la storia di Napoli a livello culturale non sarei neanche capace perché c'è questa ghia che l'ha raccontata e l'ha raccontata prima di me, la fa sicuramente meglio di me ci mancherebbe altro, lo fanno per professione e quindi non sto lì a dire un po' Napoli che cos'è Napoli però sinceramente non mi sento neanche rispecchiato da queste persone che stando su TikTok mangiando in questo modo assurdo o si fanno un copponezza, tre, quattelore o che ne so, i po, 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 i po. Napoli non è questa, non è a Napoli a cui si fa, tu a cui si fai, non a Napoli a cui si fa, vedete io sono napoletano nato a Napoli nell'ospedale dell'Annunziata, poi ovviamente ho mia mamma che è di origine irpine, ora abito nella bellissima provincia di Avellino ma ciò non toglie che il mio sangue è partenopeo e cerco di difenderlo sempre anche perché già ci pensano l'arte, ci fa come la chiave a trattarci male, qualsiasi cosa succede a Napoli vanno ad amplificare e quant'altro, poi ci dobbiamo difendere anche dai napoletani stessi, no a me sinceramente questa cosa non mi sta più bene, ripeto adoro quei tiktoker che anche in modo goliardico fanno ridere, fanno soldi, io a quelli li ammiro, ce ne sono tantissime, da Pasquale che mi fanno morire ma non solo, non solo lui, ce ne sono tantissime, però poi vedi altri che non rispecchiano proprio quello che è la napoletanità dicendo che a Napoli così si fa, no a Napoli non si fa così, si tuca fa così Napoli dobbiamo un attimo ricordare dei primati, l'ospedale Cotugno è stato il numero uno ospedale al mondo per aver combattuto il covid, guardate mi sono portato a posto il tablet perché ne erano tanti dei primati di Napoli, l'ospedale Cotugno numero uno al mondo per come ha combattuto il covid, la lotta contro il covid l'università Federico II prima università statale al mondo al tesoro di San Gennaro il più ricco del mondo la stazione di metropolitana di Toledo che ora hanno aperto anche quella di Chiaia è la più bella d'Europa il teatro San Carlo il più bello del mondo il dialetto napoletano che non è più dialetto ma lingua, riconosciuto dall'UNESCO, lingua napoletana cioè ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, io qua sarei a ore e ore e ore a fare in questo modo ma vi ripeto, non sono io a dire queste cose perché non sarei neanche capace di dirlo meglio di chi è che già l'ha detta e quant'altro però a voi, a Napoli così si fa, no a Napoli non si fa così quando noi a Napoli mangiavamo con la forchetta e con il cortello al nord Italia ancora non era arrivato il bagno, facevano i loro bisogni sotto i pianti noi siamo un popolo che già dal 1200 eravamo popolo, eravamo uniti cioè stiamo perdendo tutto questo, o meglio per colpa di qualcuno lo stiamo perdendo siccome stiamo vivendo negli ultimi anni un rinascimento napoletano, negli ultimi 10-15 anni Napoli si sta togliendo quella crosta che aveva da dosso e sta facendo vedere tutta la sua bellezza non solo a livello interno quindi per i napoletani ma a livello mondiale Napoli è una delle città più visitate al mondo negli ultimi anni sta tornando quella che è veramente la Napoli mi raccomando almeno noi napoletani difendiamocela come si deve ma no che alcuni napoletani sanno difendere pure i napoletani è peccato, è brutto, non si fa detto questo, spero che dal prossimo video ritorniamo a parlare di calcio perché poi io già i palloni ne capisco poco, come dicono parecchi però almeno come tutti i tifosi ne capiamo poco però preferisco parlare di calcio che non di queste cose stamattina questo video te ne va a rinde perché guardando non mi sento rappresentato non dite a Napoli così si fa, a Napoli non si fa così a Napoli si fa come si deve tutte cose e poi per colpa di qualcuno dobbiamo essere classificati tutti quanti nella stessa maniera, non è così Napoli è nata cosa, Napoli è nata cosa e ricordatevi che l'Italia è provincia di Napoli statevi buoni a Napoli a Napoli